bella ricca raga benvenuti su assetto corsa assetto corsa è un nuovo simulatore di auto di corse creato da un team italiano l'ho comprato da poco su steam perché era in offerta siamo quindi qui per farci un bel giro una bella ferrari f40 ci siamo raga cambio manuale cazzo pensavo era automatico oddio raga non è per niente facile non è per niente facile non è per niente facile oddio lol il cambio manuale non è per nulla facile senza gli aiuti cavolo forza nick deve imparare a guidare oddio raga nick sta imparando a guidare raga non fateci caso agli avversari oh che bel suono sparata a 200 non è per niente cazzo oddio lol troppa potenza troppa potenza troppo troppo forte ma no ok raga ok raga niente troppo ci vuole veramente parecchia pratica cioè ok non so se avete visto devo pure cambiare le marce col cambio manuale a sei rapporti non lo vedete bene ma c'è il cambio qui con tutta la frizione quindi è come guidare una macchina vera e quindi automaticamente non è proprio semplice semplice ok siamo qui con la 500 abart scusate se ho saltato il video ma purtroppo il menu principale non non viene registrato c'ho dei piccoli problemi con il programma che uso per registrare quindi pazienza l'importante tanto è il gioco quindi ho deciso di prendere la 500 abart penso sia una macchina più adatta a me adesso e vai ok ok devo far pratica raga devo far pratica aaaaaaah scusate se mi infilo fate passare fate passare aah ma penso che merda ma sti pezzi di oh c'è uno dietro di me e tu rimani dietro di me dai eh passetto torsa pure le mie parole basta pezzo di merda va a fare un culo va a fare un culo bevia va a fare un culo bevia me torna a fare facile mamma bevia me torna a fare facile mamma bevia to'ahia eh fammi passare fammi passare pezzo di merda non spingere sto pezzo di merda pezzo di merda che pezzo di merda mi ha buttato fuori strada izzica ah fuck cavolo raga ho un problema perchè il volante è troppo troppo leggero manca il force feedback e non so perchè c'è da fare parecchia pratica c'è da fare parecchia pratica non so perchè non so perchè va a fare parecchia pratica ho unетto fatica non so perchè vedi 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 Forza! questa penalità che un pallo niente raga sono parecchio nappo su sto gioco forza vabbè non li recupererò mai eeeh 5G no sono troppo ok raga basta così ahi sto che roba parcheggiamo ok raga provo qualche altra macchina qualche altra cosa perché ormai qui quelli non li riprenderò né ora né mai ok ho deciso di fare un po' di pratica appunto ho scelto qui una bellissima ferrari 599 e poi non mi ricordo il resto sembra quasi che stia camminando sta macchina vabbè quindi appunto famo un po' di pratica perché mi sa che mi serve fa pratica senti che roba ah questa c'è il cambio sul volante ok posso partire vado stica 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 ma donna mia non è per niente facile raga minchia e già morto il motore e già morto il motore l'ho fatto neanche messo in giro l'ho già distrutta questa povera macchina oddio la mia poverina ma che roba l'ho disintegrata l'ho disintegrata porca ok ci riproviamo piano 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 ma porca di quella simulazione al massimo, non ci riesco neanche a fare tre giri di tracciato che già la macchina è da buttare ho deciso di provare un po' anche il drift, proviamo un po' il drifting con un vecchio BMW, sicuramente più che buono per lo scopo anche se sicuramente sono negatissimo, su sto gioco c'è da far pratica ho che c'è da far parecchia pratica c'è da far parecchia pratica non c'è il freno a mano ok quindi è finita che si fa ok 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 è stato uno schifo lo so lasciam perdere il replay come si fa a saltare il replay ci riprovo è che mi serve il caspita del freno a mano che è? non funziona ah già ho fatto già 130 punti non è facile level up non è per niente a fare 5 anni anche 6 anni adesso è più difficile tutto più difficile 60 punti 12 punti 15 punti 20 punti 3 punti 21 punti 22 punti 21 punti 3 punti 21 punti Ok, 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 ok Eppai Ah, spai Level Up Level Up Eppai Eppai Oho 5 punti Cacchio Mo so fregato Cacchio, non mi funziona la fren... No, non mi funziona la retromarcia sul cambio è rotta Sono rimasto fregato Vabbè dai, vabbè dai E' andata comunque abbastanza bene, subia Ok Ok Ehi, what the fu... Lol Questa perchè, lol Che cacchio succede? Vabbè, che cacchio è? Oh, un bug tremendo Ehi, e chi parte? Siamo tutti ribaltati, lol Ma dai, cos'è sta a fessare? WTF HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Dio lol HAHAHAHAHAHAHA work Dio LOL 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 si certo ovviamente da capo wow ok è ringrazio del cielo perchè è in alfa da capo vai 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 stavolta va bene stavolta va bene si va oddio dove sono i miei avversari saranno tutti ribaltati poverini vabbè dai fa cacchè ehm non si può sta modesto non so cosa c'è che non va vedrò di capì ce siamo dai dai forza forza dai 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 non dai non 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 dai 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 forza 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 cazzo cazzo guarda questo pezzo di merda oi di stronzo madò primo giro proprio una meraviglia cazzo comunque ho problemi col volante perchè non mi da diciamo resistenza al volante quindi fuck ehi mi ha dato pure la penalità non 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 c'è una curva o meglio persi ormai li ho persi ormai li ho persi ok raga ormai li ho persi diciamo proprio che vado a concludere questo gameplay perchè ragazzi eh torniamo di là che almeno si veda qualcosa vabbè quindi niente raga concludo sto gameplay lo so è stato un disastro ho fatto schifo in tutto qualsiasi cosa ho provato ho fatto schifo vabbè d'altronde non è che uno impara a guidare dall'oggi al domani quindi altronde col volante e poi non è neanche tarato bene sto volando al momento vedete troppo molle e quindi guidare ad alta velocità con un volante troppo molle è praticamente troppo difficile doveva in teoria deve essere bello duro e stabile ad alta velocità ovviamente deve essere così non so il perchè devo capire il perchè comunque volevo insomma provare sto gioco e farvelo vedere ecco intanto impassano i miei avversari vabbè vabbè raga niente io vi saluto spero comunque che tutto sommato il gameplay vi è piaciuto tanto per fare una cosa diversa ogni tanto va bene quindi raga io vi saluto statemi bene alla prossima raga ciao ciao